Salve a tutti amici e copriani, bentornati in questo nuovo video su Escape from Tarkov Allora, ho fatto una partitella prima di fare questo video E' andata bene E non ha laggato, ogni tanto dava qualche colpetto, ma di poco E niente, allora Questa è un po' la situazione Questi due, vabbè, me li hanno dati con La roba del preordine adesso Poi ho avuto questi due Poi c'è tutta questa roba Che è la roba che ho fatto, tranne questo E poi qua ci sono già un po' di armi Tra cui alcune che mi hanno dato con la roba Alcune... no Quindi Direi che poi hanno detto che non aumentavano di 30 slot Ma a me sembra il più piccolo di prima Però, boh, magari hanno aumentato veramente Ok, poi so che insomma questo cappellino copre un po' Bla bla bla, eccetera Vediamo, ho fatto, ho sopravvissuto solo Ah, un raid, un sopravvissuto Ah, perché quello di ieri non me l'ha contato? Ah, ah Abruzzo sono, madonna Vabbè Allora Ce ne andiamo A fare uno scav Visto ce l'abbiamo con il cappellino Proprio dal russo E vediamo un po' Che ultimamente non mi sta dando il problema A 605 che sarebbe proprio perché la... Diciamo la... La sala d'attesa è molto lunga Proprio per il fatto che hanno sistemato un po' il traffico Quindi per questo non mi lagga Quindi speriamo che... E ho fatto, insomma, ne ho fatte diversi raid Anche il giorno in cui hanno pacciato E niente, non ho avuto nessun problema Quindi speriamo che quando registri di non avere problemi Anche se sono fortunato che li potrei avere Allora Perché se io raspostassi questo, vedete? Va bene Iniziano già a sparare Io faccio bordello a salire qua sopra Un po' troppo bordello, forse Ok, allora No, piano ce ne andiamo Visto che quello ci ha già... Un po' sentito Quanti colpi ne ho? Ok, non sono stati due, infatti Bisogna sempre stare attenti Che non ci sia nessuno qua sotto Se no siamo fotture Quello sparava a me Ah, passa Ok, mi ha fatto male E non ho niente per curarmi Spero lui abbia qualcosa per curarsi Dimmi di sì Ti prego Allora, dammeli che me li metto qui Quello si può anche togliere Dimmi che è qualcosa nel tuo zenetto per curarsi Una benda, dimmi che è una benda Oh, grande Oh, guarda che cosa aveva Ok, sto esaminando Ok, buono Voglio switchare la pistola perché preferisco questa Uno Ok Questa pistola è meglio Vediamo se questo aveva Eh, cose che mi possono servire Assolutamente no Ah, qui è tutto Aperto Aperto Vediamo se c'è qualcosa nella cassaforte Apriti Sedano, vai Sono felice che non lagga Infatti vedete Non sta dando problemi Che cosa cazzo è Che stracazzo è Buon clock Ok Va bene Un'occhiata veloce Un'occhiata molto fast Ce ne corriamo via Anzi, vediamo se qua dentro c'è qualcosa Morfina Buono Poi me l'ha messo Ok, nel coso Quindi se mi serve Me la metto lì Se mi si spacca qualche gamba Non c'è nient'altro Ok Allora, vediamo se Ok, delle bende Che ci possono servire E se trovo qualcos'altro Non lo posso prendere Un'altra bende Vediamo qua Ok, non ho ripreso A sanguinare Però Se ci fosse qualcosa Per curarsi Non sarebbe male Ovviamente E' bello E' bello Essere tornati su escape Molto bello Sono felice Una chiave Ma io butto io Un cariatore di questi Se la factory key Sbowa Ah no, door key Basta Vabbè Sempre meglio Di non aver trovato Nemmeno una chiave Allora Stiamo attenti qua Qua c'è stato Un massacro Oddio Oddio Se mi ha distrutto Mi ha fatto Paurissima Ok Ci siamo Allora Allora Lì sicuramente Potrebbe essere Spanato qualcuno Noi ce la corriamo Subito qua Qualcuno ha sfondato Una parte L'ha sendito Allora Il Brutto Possiamo chiamarli Il brutto Del saig Che è Carica Ricarica Ricarica Ok Eccoci dentro Facciamo un secondo Il test Va bene Potrebbe essere morto Potrebbe essere vivo Chi lo sa Eh ma Quanti colpi Ci vogliono Per morire Mi ha distrutto Tutto Sto Sto morendo Non posso curarmi Più nulla Sono Praticamente Morto Eh però Lì fa Che potevi funzionare Anche un po' Prima Io non arrivo Da nessuna parte In questo modo Però Fa quasi ridere Il fatto che Cioè ho giocato Tutto il tempo Da solo E non Non sono mai morto E Insomma Arrivo ora Mentre registro E questa credo sia La sfiga Il fatto è Morirò Non morirò Non sto sanguinando Da nessuna parte Allora Vediamo Madonna Mi sono arrivati Dei colpi Ok la vita Rimane quella Io devo riuscire A corrermene Ora A scappare Devo Fare proprio escape Devo fare escape From Tarkov Devo Escapare From Tarkov Ok Mica Però fai meno casino Con Ste Ste Stato Stato Dai Non ci facciamo Sentire Eh Vabbè Cioè Mi mancava un colpo Perché Ero un po' Messo un po' Male Giusto Un pelino Un pelino Male Ma poco 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 Ok Eccoci Alleluia Che Dopo Meno 5 minuti Che provavo Ad andare In un server Ce l'ho fatta Insomma Alla fine No No Non Non desincare Non desincare No Server connection Lost Fammi vedere Cosa Guardate Quasi Quasi Ci scommettevo Che iniziavo A fare Il video E poi Andava Male Allora Allora C'è qualcuno Sopra Di qua Allora C'è qualcuno Qui sopra Vediamo Se riesco A intercettarlo No No Questo Io sto Desincando Perché Ora sto Desincando Ok 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 L'ho ucciso Ok Ora sto Avendo Un po' Di problemi Oh No 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 Siete Troppi Così Eh Già Non sta Andando Come Dovrebbe Ok Ora Sì Sì Eh Eh Vabbè Però Ma non ci muoiono Nemmeno se li prendo In testa Scusami Eh Ne ho ucciso Uno It count 30 Ho colpito 30 volte Non Ne ho ucciso Nessuno Beh E poi Boh Io Non ci scommettevo Che iniziavo a registrare E andava tutto male E si è emozionato il gioco Eh Infatti io Cioè Quando gioco Lo tengo sempre sotto controllo Per vedere che succede Vi ricordate Eravamo fino a qui Pieni di armi Adesso Eh L'abbiamo perso un pochettino Però va bene Va bene Intanto Rifaccio da solo Qui eravamo pieni di roba C'era il coso Qui eravamo piedi Non c'è più nulla Qui eravamo Vabbè Avevamo solo uno zenetto Ok Va bene Va bene È andata così Per questo video è andata così Per il prossimo Sicuramente andrà meglio E quindi nulla Che dirvi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Purtroppo È andata male Questa Sessione Tra virgolette È andata molto Molto male È stata l'emozione E quindi niente Noi ci si vede nel prossimo video Che sarà o giovedì o venerdì Dipende quando è uscito questo Se è uscito lunedì o martedì E quindi niente Noi ci si vede nel prossimo video E alla prossima Ciao Ciao